È stato inaugurato a Pordenone l'AB381, il centro giovani di Viale Dante. Questo centro è gestito dalla cooperativa sociale FAI, che dal 1985 opera in Friuli Venezia Giulia e Veneto e si occupa prevalentemente di servizi sociosanitari ed educativi. Ora, assieme ad altri tre centri, fa parte di quella rete di centri giovani che con la collaborazione del settore politica e giovanili del comune organizzano attività a favore dei ragazzi della città, sostenendoli nello studio, accompagnandoli in percorsi creativi ed offrendo loro occasioni per esprimersi e realizzarsi. AB381 prende il nome dalla legge 381 del 1991 che disciplina e istituisce la cooperazione sociale. Quindi abbiamo voluto omaggiare questa legge che per noi, per tutto il settore, è molto importante e ha definito lo scopo delle cooperativi sociali a livello nazionale, che è quello di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini. Abbiamo voluto fortemente questo posto, questo hub, che diventi una risorsa per la città ed siamo contenti che sia già entrato nella coprogettazione con il comune di Pordenone attraverso un bando di evidenza pubblica che è stato pubblicato appunto dal comune di Pordenone e con noi abbiamo altri partner, altre cooperative e il comune stesso ovviamente. È già stato attivato a partire a settembre un centro educativo diurno per i ragazzi segnalati dal servizio sociale, poi questo si configurerà a ottobre come dopo scuola specialistico rivolto alle famiglie del territorio per sostegno allo studio dei ragazzi del territorio e poi si sta già configurando come centro di reglazione giovanile, il primo centro di reglazione giovanile privato di Pordenone, in rete con gli altri CAG gestiti dall'amministrazione comunale all'interno della coprogettazione insieme a Cooperativa Scaretto, Opera Sacra Famiglia e Another World Foundation. Un progetto sulle politiche giovanili molto importante che costituisce una rete significativa nel territorio a favore dei giovani. Un centro giovani meraviglioso nel cuore di Pordenone dove si svolgeranno attività aggregative, creative e anche di formazione e studio. Un centro giovani gestito dalla FAI che entra nella rete dei centri giovanili del comune, quattro in tutto in tutta la città e un impegno da parte del comune notevole perché abbiamo investito nelle attività giovanili in questi centri 350 mila euro e altri contiamo di investirne grazie a un lavoro di intercettazione di fondi nazionali, regionali ed europei. Una collaborazione quindi tra istituzioni private, istituzioni pubbliche e scuole per una nuova attenzione nei confronti dei giovani con attività costruite per loro che partono dalle loro esigenze e da quello che loro stessi hanno chiesto. Mi pare un'operazione virtuosa per dar peso al mondo giovanile che altrimenti rischia di rimanere nell'ombra.